In provincia di Salerno si sono registrati negli ultimi giorni ancora degli episodi che attengono al fenomeno dello stalking o di violenza alle donne in generale. Ed il lunedì 16 ottobre un comunicato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, che informa di un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale in carcere emessa il giorno precedente dal GIP del Tribunale su richiesta della stessa Procura, nei confronti di un 41enne reo di aver compiuto atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. L'arresto è avvenuto a Salerno per opera dei carabinieri della stazione di Mercatello. L'uomo era stato già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, ma avrebbe violato più volte le prescrizioni impostegli dal giudice, continuando ad assumere condotte intimidatorie e lesive nei confronti della donna. Del 12 ottobre invece un arresto nei confronti di un cinquantenne di Mercato San Severino, operato dai carabinieri della locale compagnia per atti persecutori e danneggiamento a seguito di incendio e maltrattamenti contro familiari o conviventi dell'ex moglie. La donna aveva già denunciato l'ex marito per le minacce subite a più riprese ed ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo l'incendio della propria auto. L'uomo, accusato di aver appiccato il fuoco, è stato ora condotto al carcere di Forni. Il 10 ottobre, a Campagna, i carabinieri della locale stazione avevano invece eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, questa volta nei confronti di un 38enne per atti persecutori nei confronti della zia convivente. Questo provvedimento cautelare era scaturito dalla querela sporta dalla donna per le continue minacce, percosse e lesioni subite per mano dell'indagato. Andando indietro di qualche settimana, ricordiamo che anche il 4 ottobre nella cittadina di Eboli si è registrato un episodio di violenza che ha portato all'arresto di un uomo che quella sera avrebbe tentato di aggredire l'ex moglie.